Beh, però questo robot non sembra così male. Crusher, Pickle, che cosa succede? Beh, diciamo che è una storia lunga da raccontare. È probabile che non sia niente, ma io non... È stato Crusher! Ops! Per mille bulloni, un robot addentatore. E un robot lanciatore. E un gigantesco robot sparatore. Devo fermare quei tre robot prima che distruggano tutta la città. Fermi, dove siete, robot? Oh! Quei robot sono molto più forti di quanto immaginassi. Blaze! Meno male che stai bene. Grazie, piccolino. Beh, se Blaze non è abbastanza forte da fermare i robot, allora ci rimane soltanto una cosa da fare. Urlare? Esattamente. Un momento, voi due. Ci sarà pure un modo per fermare quei robot demolitori. Ehi, e se costruissimo un robot tutto nuovo? Un robot che sia grande e grosso come loro. Sì! Presa! Grazie, robot Blaze! Blaze, guarda! È il robot addentatore! È il robot addentatore! Per mille bulloni addenta tutto quello che trova. Come facciamo a fermarlo? Esiste un solo modo per fermare un robot addentatore scatenato. Gli dai qualcosa che non può addentare. Ehi, quella trave di legno sembra durissima. Vediamo se il robot riesce ad addentarla. Buona idea! Secondo te il robot riuscirà ad addentare questo pezzo di legno? Ok, scopriamolo insieme. Ehi, robot addentatore! Vediamo se riesce ad addentare questo! Caspita, l'ha addentato come se stesse mangiando un grissino! E se la sta sguignando! Ehi, guarda quella trave di metallo! Secondo te il robot riuscirà ad addentare questo pezzo di metallo? Ok, scopriamolo insieme! Sì! Vai! Sei stato grande, Robot Blaze! Peekle? Peekle, dove sei finito? Peekle! 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 In realtà sono io, Crusher, ma sto facendo finta di essere un robot! Peekle! Robot Peekle è programmato per fare i panini! Ho voglia di un panino? Un robot che fa i panini? Ok, Robot Pickle, mi piacerebbe un bel panino croccante. Bi-bu-ba-bu-bip. Hai detto che ti piacerebbe un panino urlante? No, non ho detto un panino urlante. Ho detto un panino croccante. Ok, adesso ho capito. Bi-bu-ba-bu-bu. Ecco in arrivo il tuo panino cantante. Non voglio un panino cantante. Lo voglio croccante. Ah! Ora, Robot Pickle, sa che cosa vuoi. Bi-bu-bi-ba-bi-ba-bu-bu-bu. Ecco qui il tuo panino puzzettante. Panino puzzettante? Che schefa! Puzzatantissimo! Oh, come puzza! Bi-bu-ba-bu-bi-ba-bu.